ci sono visite mi strascone, una certa Helen Sharp con un signore ah, e che aspetto ha? chi? Helen, idiota e chi ne so, elegante, di una certa classe classe? rispetto a quella di chi? oh, merda togli quella rubaccia mamma ma non è forse e tu come stai? è stato caldo il tempo non è stato male, è bene qua